Stai giocando a Dauntless e non conosci ancora l'omnicella disciplina, l'omnicella più forte al momento sul gioco. O forse la conosci, ma non è ben chiara come funzioni e come e quando attivarla correttamente. Bene, questo video spero possa aiutarti a comprendere meglio come utilizzare disciplina e capire quali sono i suoi grandi vantaggi, ma soprattutto quali sono i suoi lati negativi. Perché disciplina è un po' come un medicinale, in grado di rimuovere il dolore, ma con delle piccole controindicazioni. Quindi, che dire di più? Lanciamoci sul video alla scoperta di disciplina. Per quanto riguarda la spiegazione, è appunto un'analisi dettagliata dell'omnicella, spiegando esattamente la sua parte attiva e la sua parte passiva. La parte attiva di disciplina dice pugno ardente, 200 danni ardenti e para gli attacchi in arrivo. In poche parole, l'attiva non è altro che uno scatto in avanti in cui infliggeremo un pugno. Questo pugno, se sarà lanciato in un determinato momento, farà sì 200 danni, ma permetterà di parare un attacco e quindi di annullare il danno. Questa abilità può essere attivata per qualsiasi attacco, qualsiasi bimoth faccia, ma soprattutto può essere attivata in alcune animazioni quando i bimoth entrano in modalità rage o in modalità eterica. Ora analizziamo la seconda parte dell'attiva. Fuoco interiore Quando pari, infliggi più 300% di danni e ottieni una carica di fuoco interiore che fornisce un più 4% di danni critici. Fin qui tutto chiaro, nulla di complicato, ma come facciamo a capire se siamo riusciti a parare il colpo e se ci siamo riusciti, qual è esattamente l'icona che dovremmo vedere? In questa clip che stai vedendo ti faccio notare un classico errore fatto da molti giocatori quando iniziano a utilizzare disciplina. Disciplina è stata lanciata, ha colpito il bimoth, ma non ha dato nessun punto di maestro di disciplina. Come vedi, in alto, non c'è nessuna nuova icona. Ora ti farò vedere esattamente quando ottieni questo bonus. In questa sequenza che stai guardando ti faccio vedere come ho ottenuto la prima carica di disciplina. Come potrai notare, in alto è comparso una nuova icona, nera con un pugno infiammato. Questo tipo di icona appartiene soprattutto alle omnicelle. Se avrai notato bene, in entrambe le clip l'emberman minore è stato stordito, ma solo nella seconda ho ottenuto la prima carica. Perché? Beh, il primo colpo, come puoi vedere, è stato eseguito troppo in anticipo o troppo distante dall'effettivo attacco dell'emberman minore. Il secondo, invece, come puoi notare, è stato eseguito esattamente a poca distanza dal colpo. Quello è il momento in cui dovrai attivare l'omnicella. Quello è lo spazio di tempo che ti servirà ad ottenere una carica di disciplina. Questo è quello che ti serve per capire come utilizzare disciplina al meglio o come utilizzare la parte attiva di questa omnicella. Ma ora parliamo della parte passiva, che incrementerà dell'8% la probabilità di colpo critico, anche quella dei danni critici, ma, ed eccola qui la controindicazione, avremo un meno 50% di cura. La parte passiva non si ferma qui. Qualora dovessi arrivare a ben 4 cariche di disciplina, attiverai la modalità maestro di disciplina, che ti garantisce un 50% in più di probabilità di critico, ma un 100% in più di danni che subirai per un tempo di 40 secondi. Quindi bisogna davvero stare attenti quando si entra in questa modalità, perché saremmo una spada di cristallo, sì, molto tagliente, ma anche molto fragili. Ora capisci perché disciplina è sì una delle omnicelle più forti, ma anche la più difficile da utilizzare, perché non solo bisogna avere un'ottima tempistica per attivare e ottenere più cariche di disciplina, ma anche riuscire a utilizzare questi 40 secondi al meglio, perché subire il 100% dei danni in più porterà il nostro personaggio a morire istantaneamente. Sì, saremmo washottati. Inoltre, ti ricordo che tutte le cure, queste provenienti da pozioni, dalle armi agarus, dall'effetto delle armi di terra, saranno ridotte. Quindi questo sarà un ulteriore peso in più che dovremmo cercare di contenere. Naturalmente il mio video non è mosso a scoraggiarti ad abbandonare completamente disciplina. Anzi, è un metodo per farti capire al meglio come utilizzarla. Quindi, da canto mio, ti chiedo di prenderla il primo possibile e provare, provare, provare. E sì, e se all'inizio sarà davvero difficile, non mollare. Continua. Perché se ci sono riusciti gli altri, beh, ci riuscirai anche tu. Che dirti di più per questo video? Se sei interessato all'articolo Dauntless, ti consiglio di seguire altri miei video e, naturalmente, cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. È da Dani T, o Cinghiale di Ferro, è tutto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se sei arrivato a questo punto, e ti ringrazio, diciamo che se ti fai la domanda Eh, ma in tutte le tue build metti solo bastione, sangue fredda e tempesta. Disciplina non le usi mai. Beh, ti spiego il perché. E perché, invece di farti odiare subito il gioco, se sei un nuovo giocatore, preferisco che tu abbia un approccio graduale e che, quindi, sì, acquisti il prima possibile disciplina, ma prima cerca di capire come il gioco funzioni. E ora ti saluto, che altrimenti mi si scioglie il gelato. E, sì, anche buona estate a tutti. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.